Venuta la sera. Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scessa la sera. Fite tenebre si sono adensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vie riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell'aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati pressi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, tutti. Come quei discepoli che parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono, siamo perduti. Così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. E' facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l'atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre. E' l'unica volta in cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme. Quando poi viene svegliato, dopo aver calmato il vento e le acque, ci rivolge ai discepoli intorno al rimprovero. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede dei discepoli che si contrapone alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui. Infatti, lo invocano. Ma vediamo come lo invocano. Maestro, non ti importa che siamo perduti? Non ti importa. Pensano che Gesù si desinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire non ti importa di me? E' una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. La tempestà smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze in cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo scoperto tutti i proposito di imballare e dimenticare ciò che ha nutrito l'anima dei nostri popoli. Tutti quei tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente salvatrici, incapace di fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell'immunità necessaria per far fronte all'adversità. Con la tempesta è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della propria immagine. Ed è rimasta scoperta ancora una volta quella benedetta pertenenza comune alla quale non possiamo sostrarci, la pertenenza come fratelli. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Signore, la Tua parola stasera ci colpisce e ci riguarda tutti. In questo nostro mondo che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci di tutto. Avili di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cosse e frastonare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai Tuorrichiami. Non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo. Svelgiati, Signore! Perché avete paura? Non avete ancora fede? Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede, che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te. in questa quaresima risuona il Tuo appello urgente. Convertitevi. Ritornate a me con tutto il cuore. Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. non è il tempo del Tuo giudizio, ma del nostro giudizio. È il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. che possiamo guardare a tanti compagni di viaggio esemplari che nella paura hanno reagito donando la propria vita. È la forza operante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace di riscatare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate, che non compagnano nel titolo dei giornali e delle riviste nelle grandi passarelle dell'ultimo show, ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. Medici, infermieri e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alla pulizia, badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiosi e tanti, ma tanti altri che hanno compresso che nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù, che tutti siano una sola cosa. Quanta gente esercita oggi ogni giorno di pazienza e in fondo di speranza, avendo cura di non seminare panico, ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti, mostrano ai nostri bambini con gesti piccoli e quotidiani come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La preghiera è il servizio silenzioso, sono le nostre armi vincenti. Perché avete paura? non avete ancora fede? L'inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo alti sufficienti da soli. Da soli affondiamo. Abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che con Lui a bordo non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio volgere il bene tutto quello che ci capita. anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste perché con Dio la vita non muore mai. il Signore ci interpella e in mezzo alla nostra tempesta si invita a risegliare e attivare la solidarietà e la speranza capace di dare solidità sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un'ancora nella Sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone nella Sua croce siamo stati riscatati. Abbiamo una speranza nella Sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore al Redentore. Inmesso all'isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli incontri sperimentando la mancanza di tante cose ascoltiamo ancora una volta l'annuncio che ci salva. È risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla Sua croce a ritrovare la vita che ci attende a guardare verso coloro che ci riclamano a rafforzare riconoscere e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta che mai si ammalla e lasciamo che riaccenda la speranza. Abbracciare la Sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità di fraternità di solidarietà. Nella Sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza ecco la forza della fede che libera dalla paura e dà speranza. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Cari fratelli e sorelle da questo luogo che racconta la fede rocciossa di Pietro stasera vorrei affidarvi tutti al Signore per l'intercessione della Madonna salute del Suo popolo stela del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi come un abbraccio consolante la benedizione di Dio. Signore benedici il mondo dona saluti ai corpi e conforto ai cuori ci chiedi di non avere paura ma la nostra fede è debole Signore e siamo timorosi però Tu Signore non lasciarsi in balia della tempesta ripeti ancora voi non avete paura e noi insieme a Pietro gettiamo in Te ogni preoccupazione perché sappiamo che Tu hai cura di noi. e di noi che ti 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 Grazie.